L'hanno scovato a Dubai, negli Emirati Arabi, dove gli investigatori ritenevano che si fosse trasferito nel 2016, quando scattò l'ordine di cattura nei suoi confronti. Raffaele Imperiale, narcotrafficante inserito nella lista dei sei super latitanti più pericolosi redatta dal Ministero dell'Interno, è finito in manette grazie alla cooperazione internazionale di numerose forze di polizia. Imperiale, 46 anni, originario di Castella Mare di Stabia nel Napoletano, conduceva una vita ad Anababbo nell'Emirato grazie all'imponente rete mondiale che aveva costruito per rifornire droga, cocaina in particolare, alle principali organizzazioni camorristiche napoletane. Malgrado gli arresti dei suoi principali collaboratori ed un maxi sequestro nel 2013 a Parigi di oltre 1300 kg di cocaina importata dal Sud America, era riuscito a creare un vero e proprio impero. Appassionato d'arte, aveva addirittura comprato al Mercato Nero due quadri di Van Gogh trafugati nel 2002 al Museo di Amsterdam. Grazie alla collaborazione di un pentito, le opere di un valore di oltre 100 milioni di euro furono ritrovate dai finanzieri cinque anni fa in una villa tra Castella Mare di Stabia e Gragnano dove vivevano alcuni familiari del super boss. E proprio qualche mese fa, seppur braccato dagli investigatori, Raffaele Imperiale in un'intervista al Quotidiano Il Mattino confermò di aver acquistato i dipinti ma di essere estraneo al furto. In queste ore gli inquirenti stanno completando le procedure per l'estradizione in tempi brevi del super latitante.